Il doppio titolo dell'opera Costruzione molle con fagioli bolliti, premonizione della guerra civile di Dalì, è dovuto al fatto che l'opera è stata conosciuta inizialmente con il titolo Costruzione molle con fagioli bolliti, anzi a dire la verità nella prima esposizione presso la galleria Julien Lévy di New York era intitolata Costruzione molle con albicocche bollite, probabilmente per il fatto che il traduttore aveva confuso la parola spagnola haricot, fagioli con abricot albicocche. Successivamente però una riproduzione a colori, sempre nel 1936, riparsa sulla rivista surrealista Minotaur, recava il titolo Spagna premonizione della guerra civile e poi finalmente nel 1937 quando appare alla mostra internazionale di pittura a Chicago, appare con questi due titoli. Di fatto l'opera è vero che è una premonizione, questa volta non possiamo smentire Dalì perché lui esegue i primi studi per la tela nel 1935 chiamandoli premonizione di guerra civile, quindi di fatto ambedue i titoli possono essere ben descrittivi dell'opera, di fatto questo stile, questa attenzione maniacale per i dettagli raccapriccianti si adatta perfettamente alla descrizione degli orrori della guerra civile. Ecco, Dalì dedicò pochissimi dipinti a questa vicenda, lui addirittura era scappato, si era rifugiato sui Pirenei ai confini con la Francia durante la guerra, non aveva assolutamente partecipato attivamente. E nel corso poi del secolo scorso Guernica e Costruzione molle con fagioli bolliti sono diventati l'icona di questa guerra, le icone principali di questa guerra, anche se c'è una sostanziale differenza. Guernica è un dipinto di denuncia contro la barbarità della carneficina, del bombardamento della città basca di Guernica, qui invece il messaggio di Dalì è molto più sottile, perché questa figura che si sta autodistruggendo è un riferimento appunto all'idea della guerra fratricida, ma soprattutto ha un atteggiamento quasi di paragonare questa figura mostruosa alla costruzione, alla roccia e alle rocce che stanno sottostanti, quasi a fare un parallelo tra l'avvenimento storico e l'evoluzione geologica, cioè la guerra come un evento di storia naturale, come un evento che rientra negli accadimenti della terra, un avvenimento quasi inevitabile nella storia della terra e che coinvolgeva in questo caso forze, istintive del popolo spagnolo eccetera eccetera, piuttosto che un evento di portata internazionale che ha causato poi insomma sappiamo non solo tantissime vittime, ma anche uno stravulgimento nella politica spagnola fino alla morte di Francisco Franco. Ecco, lui proprio parla di quest'opera come di fenomeno di storia naturale, quindi queste parole sono adatte a descrivere quasi il dipinto come un fenomeno biologico, infatti vediamo che lui descrive con le sue parole un gran corpo trafitto da mostruose escrescenze di gambe e di braccia, avvinte in modi di autostrangolamento. Quale sfondo a tanta carne divorata da catastrofi biologiche e narcisistiche scelsi un paesaggio geologico vanamente sconvolto durante migliaia di anni da drammi tellurici, abbellì la mollezza della massa carnosa con alcuni fagioli lessi perché non si poteva neppure immaginare di inghiottire tanta carne senza la presenza scarsamente suggestiva, lo ammetto, di un malinconico e familiare contorno, insomma familiare contorno perché nella cucina spagnola spesso la carne si accompagna ai fagioli. Ecco, qui abbiamo una performance del corpo umano che non trova paragoni prima anche nella stessa opera di Dalì, questa smorfia estatica del volto, volto rivolto verso l'alto in questa veramente visione disgustosa di un ghigno, quasi di una maschera è al contempo veramente disgustosa proprio, rivoltante, attraente. La costruzione è appunto un corpo che diventa pure ossa, che si allunga, che si deforma, in cui questa deformazione costruisce quasi il perimetro della Spagna e la costruzione vediamo che è costituita da un braccio che sporge e stringe quasi a stritolare una mammella, poi abbiamo un ginocchio molto ossuto con un piede che si appoggia a un bacino che a sua volta si appoggia su un piede, su uno schele, sulle ossa di un piede, in cui un pollice estremamente allungato sembra quasi, come si può dire, sembra quasi reggere tutto il peso, fare da contrappeso a questa scultura. Un altro braccio si dilunga dalla Y sottostante e va a stringere qualcosa di molle. La firma di Dalì è chiaramente quel fallo molle rosso che c'è appoggiato su un lato del bacino. Tutta questa costruzione fa leva sulla mano di sinistra, sul piede fa leva, insomma si appoggia, ma anche vediamo un oggetto incongruo che è quella specie di cassettiera o di armadio che c'è centrale, di cui vediamo solo un lato illuminato. Tutto il resto è un paesaggio, ma il primo piano è circondato appunto dai fagioli, le forme molli che si contrappongono alle forme dure delle ossa dello scheletro di questo mostro. Ecco, tra l'altro ci sono tutti questi salti di scala che sappiamo tipici dell'arte surrealista, ma anche dell'arte di De Chirico, tra i fagioli e le dimensioni degli arti, ma anche appunto tra la cassettiera e la dimensione di questo essere deforme. Sulla sinistra appare al di sopra della mano deforme una figura inchinata. Questa figura inchinata emerge da un paesaggio che possiamo riconoscere grazie a un'altra opera che è Il farmacista dell'Empordà non cerca assolutamente niente e quindi ci riporterebbe sia alla figura del farmacista, sia alla rappresentazione del paesaggio dell'Empordà, che sempre, spesso, scusate, torna nei suoi paesaggi e nei suoi dipinti degli anni 30. Ecco, questo piccolo personaggio che appare quasi color seppia è una citazione di una stampa, da un'illustrazione di una rivista scientifica in cui un medico è intento a mostrare il funzionamento di una macchina per il massaggio cardiaco e anche questo, insomma, è molto premonitore perché il massaggio cardiaco si pratica a chi sta morendo, quindi la Spagna viene anche qui paragonata a un paziente in stato di premorte o comunque in grave stato di sofferenza. Ecco, il medico sembra però invece in questo caso ispezionare il paesaggio putrefatto con un distacco clinico, con un distacco quasi appunto scientifico che è quello cui probabilmente da lì aspirava nel osservare la lotta fradricida che stava spaccando inesorabilmente il proprio paese. Ecco, l'artista sosteneva che questa spietata lotta, questa spietata immagine della Spagna fosse appunto profetica di quello che sarebbe successo con le atrocità compiute da ambe le fazioni del conflitto e poi lui successivamente dirà da lì a poco il cadavere spagnolo avrebbe fatto sentire al mondo intero il fettore delle sue viscere. Ecco, alcuni critici tra l'altro successivamente hanno contestato questa appropriazione da lì della guerra civile per sfruttarla in qualche modo a proprio vantaggio nel titolo del dipito. Però appunto come ho spiegato all'inizio abbiamo degli studi preparatori che appunto risalgono al 35 e sono sia la composizione centrale sia anche le studi delle forme del piede. Ecco, dimenticavo di citare un'artista importantissima a cui sicuramente da lì deve molto che è Goia perché nella figura mostruosa che vediamo sopra e in questa idea insomma del divorare il proprio corpo, i propri figli e di divorare se stessi, la citazione appunto è quella del Saturno che divora i propri figli di Francisco Goia del 1820.